L'esplosione solare che si è verificata il 16 aprile 2012 ha prodotto qualcosa di davvero inusuale sul Sole, una pioggia. Certo, non è caduta acqua sulla sua superficie, ma quella che gli astronomi chiamano pioggia coronale. Dopo l'eruzione, un'enorme quantità di plasma, ossia di gas ad altissima temperatura, che si è condensato nella corona solare è ricaduto sulla superficie del Sole, dando origine a qualcosa che sembra pioggia. Il meccanismo di questo fenomeno non è ancora chiaro, anche perché il plasma ricade ad una velocità inferiore a quella che ci si aspetterebbe data la enorme gravità della nostra stella.